Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Ieri sera su Rai 1 è iniziato lo show Il Cantante Mascherato. A condurre c'è Millie Conluci e in veste di giurata c'è anche Iva Zanicchi, che dopo ballando con le stelle, è tornata a far divertire il pubblico con le sue barzellette. Ieri sera è andata in onda la prima puntata e in contemporanea su Canale 5 è stata trasmessa anche la prima puntata di Amici di Maria De Filippi. Iva Zanicchi però non è stata particolarmente attenta a questo dettaglio. Iva Zanicchi ha portato la sua simpatia nello show, ma ha anche fatto una gaff che ha lasciato il pubblico senza parole. La Zanicchi ha lanciato un'ipotesi dopo l'esibizione di Ciuchino, una delle maschere di questa edizione. Secondo la giudice, sotto la maschera dell'animale si sarebbe nascosto Cristiano Malgioglio, che era tra i concorrenti della scorsa edizione. In realtà però quest'anno Malgioglio fa il giudice ad Amici. Millie Carnucci ha, corretto così, non è possibile, sta lavorando per un'altra rete.